Bonus edilizia 110%, crediti bloccati per le imprese. Confartigianato la Spezia lancia l'allarme perché di fatto ci sono i cassetti fiscali pieni ma quei soldi le imprese non li possono prendere. Ne abbiamo parlato con Paolo Figoli, presidente di Confartigianato la Spezia. Sì, questa situazione la sentiamo pesantemente. Le nostre imprese che lavorano nel settore, che hanno usufruito appunto di lavori legati al bonus, stanno soffrendo. Siamo qui veramente alla beffa di dover saltare per troppi crediti perché si ritrovano i cassetti fiscali pieni, il blocco governativo che è stato fatto da parte delle banche e da parte delle finanziarie che ricevevano i crediti ha creato appunto un cassetto fiscale pieno ma da una parte senza poter riscuotere. Quindi crisi di liquidità, problemi perché il materiale stato ordinato va pagato, perché i dipendenti vanno pagati è un problema anche per tutte le famiglie che sperano di poter utilizzare questo bonus per riqualificare tutti i fabbricati che erano delle aspettative che il governo ha dato a famiglie e imprese che invece non sta assolutamente riconoscendo. Con Fartigianato nazionale e con Fartigianato la Spezia chiaramente non restano impassibili davanti a questa emergenza. Quali sono le vostre proposte al governo? Sì, noi insieme a tutta la filiera delle costruzioni a livello provinciale con incontri con i nostri parlamentari locali in modo da attivare delle situazioni che vadano a sbloccare queste problematiche. A livello nazionale all'interno di tutta la filiera delle costruzioni portiamo avanti una pressione costante con le forze governative, con i sottosegretari di competenza, con l'ABI perché adesso avete visto che sia l'Agenzia delle Entrate che l'ABI hanno mandato una circolare alle banche di verificare con molta attenzione quelle che sono le pratiche perché altrimenti potrebbero essere chiamate a essere responsabili in solido di questa situazione. Quindi il nostro è un lavoro costante di lavoro ai fianchi, in pressing, presso sia a livello locale che a livello nazionale per trovare delle soluzioni, insomma per fare delle modifiche che prima di tutto allunghino i tempi perché a questo punto poi i tempi da rispettare diventano sempre più stretti. Quindi un allungamento dei tempi e anche eventualmente un ridimensionamento futuro del bonus che è nato male e è proseguito peggio con tutte le sette modifiche che sono state fatte in due anni però diventando lo strutturale, diminuendo magari, portarlo al 70-60% però per continuare questa transizione.